Musica Non mancherai nelle mie live su youtube se vuoi provare a vincere skin di base battaglia o V-Bucks Noi vi vedete ben potaggiati io andrei appunto a vedere dove trovare la moneta XP oro di questa settimana 7 di Fortet Provinco in giù a vedere appunto nel dettaglio dove trovare questa moneta XP Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e tenendo la campanella delle notifiche Così siamo aggiornati su questi tipi di video e live con lo skin di base battaglia Infine con i video del suo video ci sono amici e mi vedremo anche a loro dove trovare appunto la moneta XP oro di questa settimana 7 di Fortet Quindi partiamo subito e per trovare questa moneta XP oro di questa settimana Dovremmo dirigersi esattamente qui al dominio di Doom proprio alla casa principale quindi esattamente in questo punto Una volta che siamo venuti qui dobbiamo appunto andare sul retro quindi vi legate qui sul retro Entrate da questa porta quindi entriamo qui dentro e esattamente qui dietro a questa porta Troverete la moneta XP oro infatti la moneta si troverà esattamente qui dietro a queste sbarre Infatti vi lascio questa clip che vi mostra questa moneta Infatti io l'ho già presa per questo non mi appare Quindi basta venire qui la recuperate e avrete preso la moneta XP oro di questa settimana 7 Molto semplice Quindi vi ripingo in una posizione esattamente qui al dominio di Doom In questo punto esatto sotto la casa quindi nel piano sotterraneo Quindi spero che questo video si è stato aiuto per capire dove trovare la moneta XP oro di questa settimana 7 di Fortet E se è così vi ricordo di Ashromelec iscrivete a questo canale attivando la campanella delle notifiche Così siamo aggiornati su questi tipi di video e la vi ho lo schieno basa a taglia Infine condividete il suo video sui tanti amici e mi vedete anche a loro Appunto dove trovare la moneta XP oro di questa settimana 7 di Fortet Noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima live Grazie Grazie Grazie